Grazie per essere rientrati e ritornati dopo questa pausa che ci ha un po' consentito di ossigenarci. Io ho l'onore di poter seguire la parte che riguarda la ricerca. Per noi la ricerca è uno degli elementi fondamentali che viene in qualche modo seguita da parte dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni, che fa parte del MISE. Il MISE al suo interno ha una direzione generale, tecnica. Questa direzione generale svolge prevalentemente attività di ricerca e di sviluppo. Attività di ricerca e di sviluppo che si apre in diversi settori, sempre nell'ambito dell'ICT. Noi abbiamo da anni, noi nel senso comunque come istituzione, perché chiaramente l'Istituto nasce diversi anni fa, nel vecchio Ministero delle Comunicazioni, ancora prima poste e telegrafiche, aveva la funzione di portare la formazione al personale. Poi si è evoluta la sua funzione ed è in qualche modo cresciuta nell'ambito della ricerca e dello sviluppo. Ad oggi noi abbiamo all'interno dell'Istituto diverse divisioni, diverse strutture che si occupano di ricerca e di attività in qualche modo legate alle tecnologie. Una delle cose fondamentali che segue l'Istituto sono i progetti di ricerca, progetti di ricerca che sono progetti sia nazionali che internazionali. Abbiamo tirato su dei laboratori, dei centri di eccellenza che ci consentono in qualche modo di poter aprirci a diversi ambiti, a diversi settori che si rivolgono quindi alle tecnologie. Abbiamo dei laboratori che sono specializzati nell'ambito della sicurezza delle informazioni, faccio riferimento veloce al centro nazionale anti-botnet che è uno dei centri d'eccellenza, è l'unico centro nazionale che svolge la funzione di ricerca e di acquisizione dei dati sulle botnet che rende un servizio quindi anche al CERT nazionale e altre strutture di sicurezza nazionale. Abbiamo anche tra gli altri laboratori il famoso laboratorio di qualità, quindi adesso comprimo, cerco di essere un po' più breve per non rubare il tempo alla parte più pratica, più viva della sessione. Abbiamo il laboratorio di qualità, che è un laboratorio che è nato praticamente proprio perché dove deve sviluppare si apre al discorso della qualità dei servizi, servizi che vengono offerti e vengono dati quindi alle pubbliche amministrazioni e ai privati. Naturalmente la parte del laboratorio la svilupperà il collega Ingegner Gaudino, quindi si aprirà lui la possibilità di esplicare meglio le funzioni di questo laboratorio. Possiamo andare avanti un pochettino, volevo far vedere, ecco, tra le cose che volevo segnalare e che hanno una maggiore rilevanza e proprio per la parte divulgativa, noi abbiamo anche la scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni e nell'ambito di questa scuola chiaramente vengono formulati, vengono anche rivolte, sviluppate tematiche particolari. Andiamo con il progetto. La nostra approfondimento che ha aperto la strada al coinvolgimento, quindi alla collaborazione col Dipartimento delle Funzioni Pubbliche, grazie anche a Emilio e quindi al gruppo che con Emilio segue il protocollo EGLU, si inserisce già in un'esperienza che noi da anni abbiamo attivato nell'ambito della ricerca sempre sulla usabilità e sull'accessibilità, perché abbiamo lavorato su questi ambiti, perché riteniamo che la usabilità, accessibilità e sicurezza sia un aspetto fondamentale della qualità, è uno degli aspetti fondamentali della qualità. Quindi noi siamo partiti già con la ricerca sull'usabilità e sull'accessibilità, vedendo anche che il Dipartimento della Funzione Pubblica è partecipando ai lavori con il Dipartimento stesso, ci siamo aperti a questa collaborazione, una collaborazione che ci vede praticamente interlocutori tra il Dipartimento della Funzione Pubblica, tra il Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali e Umane della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia e il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari che sviluppano il programma di ricerca. Questa collaborazione ci ha consentito e ci consentirà praticamente di portare a termine questa attività che si rivolge proprio alla sperimentazione e all'attivazione di queste piattaforme che danno il senso dell'applicazione del protocollo EGLU 2.1 e EGLU M. Naturalmente il nostro obiettivo è sempre stato lo stesso, cioè il nostro obiettivo è di portare la ricerca nella forma pragmatica, cioè nell'applicazione e nella possibilità di essere utilizzata in tutte le pubbliche amministrazioni. Su questo punto volevo fare una breve premessa perché stamattina abbiamo sentito, abbiamo raccolto alcune approfondimenti sulla parte del coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni. Noi non dobbiamo dimenticare che le pubbliche amministrazioni sono diverse, sono tantissime e hanno tutte una natura che non può essere omologata. Io mi riferisco per esempio alle amministrazioni comunali, ai comuni, alle province, alle regioni, alle pubbliche amministrazioni statali, agli enti pubblici economici, agli enti pubblici non economici, ogni amministrazione ha una sua peculiarità e una sua caratteristica. Chiaramente quando noi parliamo di Open Government e lo rivolgiamo e lo apriamo alle pubbliche amministrazioni, dobbiamo anche considerare la stessa natura delle pubbliche amministrazioni, che è un processo particolarmente complesso perché mentre noi ci rivolgiamo amministrazioni dello Stato che hanno comunque un know-how e hanno la capacità di poter processare nuove dinamiche anche nell'ambito delle tecnologie, quindi far inserire nell'ambito dello sviluppo le tecnologie con delle risorse che possono sostenere questi processi di trasformazione e di cambiamento, nelle amministrazioni più o meno piccole che sono quelle diciamo prevalenti nello Stato, quindi i comuni e le province, queste dinamiche sono molto più difficili. Ecco perché è forse auspicabile aprire a un discorso di rete delle amministrazioni, cioè il coinvolgimento delle amministrazioni anche attraverso quelle che possono essere le interlocuzioni istituzionali, delle associazioni dei comuni e delle lupi e delle regioni, la conferenza delle regioni potrebbe costituire una base per poter poi omologare e definire aspetti di collaborazione sia dal basso che dall'alto. Io adesso mi taccio perché non voglio togliere il tempo ai colleghi e il prossimo passaggio è dedicato a Giancarlo Gaudino. L'ingegnere Giancarlo Gaudino è il responsabile del laboratorio qualità dell'istituto, il quale poi vi potrà illustrare meglio come funziona e come l'abbiamo organizzato. Prego. Buon pomeriggio, il mio intervento illustrerò brevemente quali sono le attività di un laboratorio di una pubblica amministrazione, qui siamo quasi tutti dipendenti pubblici e sappiamo quanto è difficile con i tagli di risorse che ci sono mantenere strutture di questo tipo. Però grazie alla collaborazione sia della nostra dirigenza siamo riusciti ad oggi a mantenere un laboratorio aggiornato con le maggiori tecnologie e questo laboratorio lo stiamo mettendo a disposizione anche delle università perché crediamo che un laboratorio pubblico abbia questa possibilità è giusto che venga utilizzato dalle risorse. Poi un'altra cosa che vorrei dire che credo che sia molto importante, anche questa è una cosa che voi conoscete tutti, l'età media della pubblica amministrazione è molto alta, quando noi parliamo di ricerca ci dobbiamo rendere conto che non si fa, non si può fare, oppure dovrebbero essere attività di coordinamento e di indirizzo, persone che hanno un'età superiore ai 50 anni perché l'età media della pubblica amministrazione è questa, però noi grazie a questi capitoli della ricerca e alla sensibilità che il Statuto ha sempre avuto, noi nel nostro interno, come diceva prima il dottor Antonello Cocco, abbiamo la scuola di specializzazione in ingegneria, è un fiore all'occhiello nel nostro istituto che è da un reggio del credito del 1923 che esiste questa scuola, per laureati in ingegneria e grazie poi alle borse di studio e gli assegni di ricerca che vengono poi queste persone utilizzate all'interno dei laboratori, riusciamo ad oggi a mantenere questi laboratori abbastanza attivi. Questo è il compito, adesso il laboratorio fa tante cose, però quello che ci interessa farvi vedere adesso sono gli aspetti di accessibilità e usabilità perché credo che questo sia l'argomento del giorno. Per quanto riguarda l'accessibilità noi abbiamo seguiti sin dall'inizio i lavori della legge stanca, quando è stata istituita la legge stanca e nel nostro interno abbiamo cercato di realizzare un laboratorio, anche questo molto attrezzato con tutti i sistemi operativi e con anche un piccolo, una piccola parte di tecnologie assistive, perché anche su questo ci crediamo moltissimo, questa cosa è stata detta anche dal nostro direttore stamattina e il fatto di poter dare la possibilità a tutti di accedere alle informazioni, ai siti e così via. Questo è appunto un altro aspetto molto importante che ci crediamo, vi ho detto della scuola, c'è stato un accordo un paio di anni fa con la funzione pubblica per diffondere le tematiche di usabilità e del GLU e quest'anno siamo arrivati alla settima edizione del corso e abbiamo formato un diverso numero di pubbliche amministrazioni perché lo scopo di questi corsi è quello di formare i formatori che a loro volta poi nel proprio interno formeranno il proprio personale. Il laboratorio di usabilità invece è un laboratorio che è stato creato con dei canoni scientifici, stamattina abbiamo sentito la seconda parte, credo i maggiori attori, sia docenti universitari o no, che ci hanno illustrato tutte le tematiche dell'usabilità e che cosa la ricerca sta facendo. Adesso vi faccio partire un breve filmato abbastanza veloce dove c'è una presentazione del laboratorio e alcuni esempi di tecnologie assistive che abbiamo utilizzato quando siamo per i test di usabilità perché noi siamo entrati nel GLU proprio perché avevamo questo background di test con utenti di esami. Impressivo Dovrebbe partire sì, spesso queste cose non funzionano, speriamo che oggi vadano. Nicolato Undo Il laboratorio di usabilità è strutturato in due aree. La sala di controllo è quella di postazione per le prove con gli utenti. Le due aree sono divise da una parete probista di vetrata unidirezionale, che permette l'osservazione ed il controllo a distanza delle prove. La postazione utente riproduce un abituale ambiente domestico e condizioni di comfort ottimali per lo svolgimento dei test. A presto! Per questo ti chiederò di svolgere alcuni compiti di navigazione del sito. Allora, partendo dalla home page del... ...sufficientemente rapido da impedirmi anche di leggere completamente con il display braille. Perché finché ho capito che c'erano delle notizie che scorrevano e poi ho dovuto rendermi conto che erano comunque cicliche... Ok! 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 Stai comodo? Sì! Mouse e campanella ce l'hai sentito? Ok! Iniziamo! Ok! Allora, l'account l'ho fatto... ...campanella... ...se non mi ricordo... ...spero... 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 ...esperto... ...federice... ...snuoto... ...table with... ...titolo... ...descrizione... ...URL... Page del Ministero dello Sviluppo Economico visitato link grafico... ...mai a 9 page del Ministero... ...quoto... ...nivello di testazione 2 menu propilato... ...eletto link per il cittadino... ...link per le aziende... ...link per il pedia... ...vide e nel quoto... ...nivello di testazione 2 menu tematico... ...eletto link S... ...sistema CIPAC S... ...semestre europee... ...per i test di usabilità... ...creato da... ...come è stato detto questa mattina... ...all'Università di Bari... ...e che questo tool... ...fosse accessibile... ...perché... ...ce ne sono diversi sul mercato... ...anche professionali... ...ma che ne hanno... ...abbiamo avuto durante i test... ...abbiamo verificato... ...che hanno diversi problemi di accessibilità... ...per cui uno degli scopi del nostro... ...diciamo progetto... ...è quello di creare anche uno strumento... ...che sia accessibile... ...utilizzabile chiaramente da tutti... ...adesso un breve scorso sui progetti... ...perché vi dico che... ...da diversi anni... ...stiamo lavorando su queste tematiche... ...uno è questo progetto di telelavoro... ...i cui ne ha parlato... ...questa mattina anche il direttore... ...se volete... ...tanto le slide saranno a disposizione... ...potete poi collegarvi... ...ci sono... ...c'è proprio due... ...c'è un sito costruito... ...proprio per questo progetto... ...il progetto PA++... ...di cui stiamo parlando in questo momento... ...è stato premiato anche al Forum PA... ...è avuto un premio... ...è quello che siamo riusciti a raggiungere... ...è avere appunto questo strumento... ...e sono state consolidate anche... ...delle metodologie di prova... ...ed abbiamo acquisito come laboratorio... ...nuova strumentazione... ...il nuovo progetto... ...che su questo è stato detto qualcosa... ...è quello appunto di aumentare... ...il numero di test... ...sia con persone disabili o no... ...e fare poi un'analisi esperta... ...sui dati di usabilità... ...e anche quello di mettere a disposizione... ...su questo posso annunciarlo... ...sono state otto le pubbliche amministrazioni del GLU... ...che hanno dato l'ok... ...per fare questa fase sperimentale... ...questa fase sperimentale... ...si concluderà... ...grazie ai feedback... ...delle redazioni che faranno i test... ...con la messa a punto del software... ...per arrivare ad avere anche la validazione del software... ...visto che vogliamo distribuirlo... ...gradutamente alle pubbliche amministrazioni... ...dobbiamo dare un software che sia certificato... ...e in ultimo anche su questo... ...stamattina il professor Nocera ha dato un piccolo spunto... ...stiamo lavorando anche sulla valutazione del carico mentale... ...quando si utilizzano dei siti della pubblica amministrazione... ...io ho concluso... ...mi dispiace che purtroppo il video... ...abbiamo avuto questi problemi... ...però se volete... ...ci sono tutti i riferimenti... ...e il nostro laboratorio è a disposizione... ...per le pubbliche amministrazioni... ...quando ci sono dei bisogni... ...ci sono dei bisogni... ...oppure se c'è possibilità... ...possiamo fare anche delle attività di collaborazione... ...e queste sono state sempre fatte... ...vi ringrazio e passo la parola al dottor Antonello... ...grazie grazie... ...comunque Giancarlo... ...a prescindere dall'esposizione e dal video... ...allora adesso io dovrei passare la parola... ...al dottor Fabio Meloni che non c'è... ...e quindi mi hanno detto che lo sostituisce... ...è la dottoressa Maria Laura Mele... ...la dottoressa Maria Laura Mele... ...è una psicologa, psicoterapeuta... ...e dottore di ricerca... ...prego dottoressa... ...allora io proverò... ...a intercettare quello che era... ...l'intento del mio collega... ...rivedendole insieme le sue slide... ...allora il lavoro proposto... ...mira a dare luce... ...a quelle che sono le risorse... ...e le opportunità... ...che una valutazione inclusiva... ...po dare nell'ambito dell'usabilità... ...prima di parlare di questo però... ...il collega ha voluto fare un parallelismo... ...tra interazioni con una tecnologia... ...e interazioni tra due individui... ...abbiamo diciamo una propensione... ...spiccatamente psicologica... ...per cui il collegamento era facile... ...affinché tra due individui... ...ci sia una buona interazione... ...questa deve essere buona... ...in senso come una bontà... ...universale laddove c'è... ...laddove un individuo è relazionale... ...e questa relazione diciamo... ...raggiunge un contatto pieno... ...questa è un contatto buono... ...deve essere etica... ...nel rispetto dell'altro... ...dei confini dell'altro... ...e questo vale anche per le nuove tecnologie... ...quindi in che senso... ...parliamo di buona interazione... ...una buona interazione... ...deve funzionare... ...cioè deve essere logica... ...comprensibile... ...e utile... ...a chi utilizza la tecnologia... ...deve essere inclusiva... ...e quando parliamo di inclusione... ...in questo senso... ...si parla di... ...un'interazione giusta... ...come abbiamo detto... ...etica... ...e quindi equa... ...equanime... ...e infine... ...deve essere piacevole... ...gradevole a utilizzare... ...qui il collega utilizza il termine bello... ...bello in senso universale... ...piacevole... ...che dia... ...soddisfazione... ...detto questo... ...passiamo... ...al discorso... ...dell'inclusione... ...non sto che andando... ...passiamo... ...all'inizio... ...ok... ...passiamo... ...all'inclusione digitale... ...quindi... ...prima di mostrarvi... ...quali sono le procedure... ...di valutazione... ...utilizzate... ...nel nostro lavoro... ...è bene porre l'accento... ...su quello che è... ...lo sfondo teorico... ...che ci ha orientato... ...nelle nostre scelte metodologiche... ...ciò è... ...il discorso dell'inclusione digitale... ...vado avanti così... ...quindi parlare oggi... ...di divario digitale... ...di digital divide... ...è ben diverso... ...da... ...ciò che potevamo intendere... ...quando questo termine è stato introdotto... ...diciamo che sono ormai passati vent'anni... ...agli inizi... ...della diffusione... ...del web... ...il divario digitale... ...era diciamo... ...guidato da una linea... ...che divideva... ...chi possedeva la tecnologia... ...e chi non ce l'aveva... ...sappiamo che oggi... ...in gran parte del mondo occidentale... ...ha accesso alla rete... ...quindi non è più un problema d'accesso... ...ma questo... ...non ha eliminato... ...comunque il problema del divario... ...che adesso non è più diventato... ...un problema di accesso... ...ma un problema di competenze... ...non inteso come la mancanza delle competenze da parte di chi utilizza... ...ma delle competenze richieste dalla tecnologia che deve essere utilizzata... ...cioè c'è un gap nelle competenze degli utenti... ...dove tutti possono accedere alla tecnologia dell'informazione... ...ma queste vengono utilizzate in modo differente... ...quindi il divario sta in come viene raggiunto l'obiettivo di accedere all'informazione... ...quindi in altre parole... ...avere l'accesso non significa raggiungere l'obiettivo... ...e come possiamo immaginare... ...le persone che incontrano questo problema sono sempre le stesse... ...anziani... ...chi ha una situazione socio-economica disagiata... ...e infine i disabili... ...non è andata... ...scusate... ...di divario anche qui... ...che sta succedendo? ...scusate... ...è un problema con... ...sì... ...è un problema con la presentazione... ...la modalità estesa forse che crea problemi... ...è... ...è fondamentale... ...è fondamentale... ...è fondamentale... ...è... ...è... ...non risponde... ...non risponde... ...non risponde... ...dia avanti senza slide... ...a questo punto... ...ok... ...quindi parliamo di... ...senza slide però... ...scusate un attimo... ...ri avviamo qui... ...in modo tale da consentire anche a voi... ...di vedere le slide... ...chiudo tutto... ...ri avviamo tutto... ...com'è la presentazione... ...ora va... ...scusate... ...grazie... ...ok... ...quindi abbiamo parlato di... ...disabilità e digital divide... ...la maggior parte delle difficoltà di accesso... ...siamo sempre a carico dei disabili... ...e inoltre... ...un'altra... ...diciamo... ...causa di divario... ...è che le tecnologie... ...sono disponibili... ...per i disabili... ...ma sono comunque sempre... ...differenziate dalle tecnologie... ...cosiddette mainstream... ...di utilizzo comune... ...quindi... ...sì... ...l'approccio del design... ...delle tecnologie... ...è democratico... ...ma si dimentica... ...delle peculiarità dell'individuo... ...quindi una fetta della popolazione... ...viene necessariamente esclusa... ...e questo... ...soprattutto a discapito di... ...determinata disabilità... ...inoltre... ...queste tecnologie che vengono fornite... ...hanno costi eccessivi... ...hanno... ...diciamolo... ...sono brutte... ...hanno un design inadeguato... ...e spesso sgradevole... ...l'utilizzo... ...in un contesto sociale... ...causa lo stigma sociale... ...chi utilizza una tecnologia assistiva... ...accentua la propria disabilità... ...e inoltre c'è uno scarso supporto... ...quindi... ...questo significa che... ...non c'è nessun coinvolgimento... ...o un basso coinvolgimento... ...nella progettazione... ...e nell'implementazione... ...delle tecnologie... ...quindi noi diamo particolare importanza... ...al divide... ...rispetto alla disabilità... ...anche perché questo ci permette... ...di includere... ...anche altre categorie sociali... ...quindi andando a vedere... ...i cosiddetti ultimi... ...includiamo... ...chi c'è prima... ...per mettere quindi insieme... ...accessibilità e usabilità... ...quando parliamo di usabilità... ...quindi non intendiamo... ...usabilità universale... ...como una declinazione dell'usabilità... ...che tiene anche conto dell'accessibilità... ...noi sappiamo che l'accesso... ...all'informazione è difficile... ...anche quando il disabile ha tutti... ...quindi tutte le tecnologie... ...i tussidi necessari... ...ma nonostante questo... ...rimane una difficoltà di accesso... ...per via problemi legati al fatto che... ...il web e i prodotti tecnologici... ...spesso non sono... ...a misura... ...non sono tarati per tutte le specificità... ...delle tecnologie assistive... ...e quindi raramente i software... ...son testati con i disabili... ...quindi qual è per noi... ...il vantaggio di includere i disabili... ...tra tutte le categorie sociali... ...in queste sono quelle che ci permettono... ...di più... ...in assoluto di individuare i problemi reali... ...che valgono tutti... ...considerano tutti... ...riguardano tutti... ...e questo quindi ci permette di realizzare... ...una reale usabilità universale... ...ok... ...quindi è chiaro che vogliamo includere i disabili... ...ma come? ...in che modo? ...non basta come vediamo... ...progettare per l'inclusione... ...per fare ciò dobbiamo fare un passo indietro... ...e ripensare... ...a quelle che sono le metodologie di testing... ...che a loro volta devono essere usabili... ...per i destinatari... ...se usiamo metodologie non usabili... ...non possiamo certo raggiungere... ...con un'usabilità del prodotto... ...diciamo una meta-usabilità... ...fondamentalmente quello di cui stiamo parlando... ...quindi ad oggi il metodo di valutazione più utilizzato... ...è quello del thinking aloud... ...si chiede a un soggetto di parlare a voce alta... ...e di esprimere verbalmente tutti i passaggi... ...dell'interazione che sta effettuando... ...in questo momento sto cliccando sul tasto avanti... ...per andare avanti con la slide... ...esempio fatto in questo momento... ...questo metodo si declina solitamente... ...in due categorie di tecniche... ...c'è il concurrent thinking aloud... ...e il retrospective thinking aloud... ...il primo lo fa nello stesso istante... ...nello momento in cui si sta effettuando la prova... ...e il retrospettivo viene fatto alla fine della prova... ...queste tecnologie... ...queste metodologie... ...entrambe presentano problemi... ...già di per sé... ...con una persona che non ha difficoltà funzionale di ogni sorta... ...perché richiedono un carico cognitivo maggiore... ...che si va ad aggiungere alla valutazione stessa... ...quindi alla prova stessa che il soggetto sta compiendo... ...possiamo quindi immaginare come per una persona disabile... ...questo possa essere ancora maggiore... ...soprattutto quando ci sono anche disabilità cognitive medie... ...cioè crea molte molte più complicazioni... ...e soprattutto in assoluto... ...i diciamo i più... ...quelli che vengono messi maggiormente in difficoltà in questo... ...non sono tanto i disabili cognitivi ma sono i disabili visivi... ...perché hanno un problema di canale uditivo già saturato dallo screen reader... ...quindi queste due tecnologie entrambe non sono buone... ...non permettono una buona interazione per la valutazione... ...quindi lì se c'è un problema di usabilità... ...il problema è a carico di quello che stiamo valutando... ...o della metodologia che stiamo utilizzando. Ok, passiamo all'ultima slide. Qui il collega ci presenta una nuova metodologia di valutazione... ...che incontra e supera il thinking aloud... ...diciamo che viene fatto momentaneamente... ...il concurrent... ...è il retrospective... ...è un incontro di due... ...a questo punto io chiederei al professor Federici... ...che è il creatore di questa metodologia... ...di spiegarcelo nel dettaglio. Adesso vuole... ...oppure vuole... ...se... Intanto che si preparano per questo cambio... ...volevo accennare a questo discorso... ...noi all'istituto abbiamo già in qualche modo... ...approfondito questo aspetto dell'accessibilità e dell'usabilità... ...perché ci siamo posti il problema... ...come stamattina è stato anticipato dal nostro direttore... ...una problematica di personale che aveva... ...diciamo delle disabilità... ...e ci siamo sempre posti il problema... ...siamo stati molto sensibili... ...a venire incontro a quelle che possono essere queste problematiche... ...fornendo anche apparati e strumenti... ...che si adeguassero a questo tipo di situazione... ...quindi siamo stati in qualche modo un po' aperti... ...a sviluppare e approfondire questo tema. Prego, professore, adesso... Allora, velocemente perché... ...toccava ai miei colleghi... ...la modifica che è stata fatta del Thinking Allowed... ...con il Partial Concurrent Thinking Allowed... ...è questa... ...che se sto utilizzando uno screen reader... ...c'è un'interferenza strutturale... ...cioè il screen reader mi sta leggendo ad alta voce... ...io ho casomai le cuffiette... ...oppure anche in viva voce... ...e ascolto... ...se in questo momento devo dire... ...ho trovato questo problema in questo punto... ...c'è ovviamente un'interferenza strutturale... ...cioè creo dei problemi... ...e quindi il concurrent... ...non può andar bene... ...un problema del retrospective... ...è il problema del ricordare quello che è successo... ...che può creare dei problemi... ...quindi abbiamo pensato... ...non so se avete notato che c'era un campanellino... ...da hotel... ...che era su un tavolo... ...quando è stato fatto vedere il laboratorio... ...e l'esperimentazione che è stato fatto nel laboratorio... ...per cui questo campanellino ha questa funzione... ...cioè che quando la persona che sta interagendo... ...incontra un problema... ...qualunque sia il problema... ...spinge il campanellino e basta... ...senza verbalizzare... ...qual è la natura del problema... ...questo campanellino... ...segnerà un richiamo mnemonico alla persona... ...in un secondo momento... ...e anche un richiamo nella registrazione... ...che è stata fatta dell'interazione... ...cosicché alla persona in un secondo momento... ...si fa vedere soltanto in video... ...per la parte di registrazione dell'interazione... ...in cui è stato suonato il campanello... ...e in un secondo momento... ...quindi a fine dell'interazione... ...gli si chiede che cosa è successo in quel momento... ...questo ci permette di superare i problemi di interferenza... ...e nello stesso tempo di andare a caricare la memoria... ...per recuperare un contenuto... ...se potrebbe essere stato dimenticato... ...cioè che cosa era avvenuto in quel momento... ...grazie... ... ... ... ... ... ... Sono Sara Anzilotti e sono docente presso il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi Bari e in collaborazione con il dottor Desordi presenteremo sostanzialmente i risultati dell'attività B del progetto PA++ che prevedeva la progettazione e lo sviluppo di questo strumento tante volte menzionato stamattina che si chiama UT Assistant. Non sto qui a dire cosa fa UT Assistant perché l'abbiamo detto un sacco di volte ma vi spiego perché abbiamo deciso insieme ai colleghi di definire questo progetto e lavorare affinché si creasse uno strumento di supporto a tutti coloro i quali vogliono fare test di usabilità sui siti web della pubblica amministrazione e non solo, aggiungo io. I siti web della pubblica amministrazione sono nati con l'obiettivo di migliorare l'interazione tra il cittadino e la pia stessa e quando si parla di migliorare l'interazione non possiamo prescindere dal sviluppare siti che siano usabili e anche questo vi è stato detto tante volte stamattina, vi è stato anche detto dalla professoressa Costabile che a Bari presso il Dipartimento di Informatico oramai è un anno e mezzo che seguiamo test di usabilità sui siti web di comuni e regioni e quello che sta emergendo è che il cittadino ha difficoltà di interagire con questi siti per diversi motivi. Prima di tutto, prima parlavo con una vostra collega e mi diceva sì, alcune volte trovo difficoltà addirittura a capire se l'informazione che sto cercando è presente nel sito e quando capisco che c'è devo capire dove andare a trovarla o nell'utilizzare forma, che questa parola è stata detta stamattina, scaricare moduli. Questa è come la piave del proprio sito e queste sono le emozioni che prova il cittadino quando invece interagisce con i siti web della pubblica amministrazione, non tutti, con alcuni siti web della pubblica amministrazione. I risultati che stiamo ottenendo nei nostri studi sostanzialmente sono coerenti con il valore del DESI. Il valore del DESI è un indice definito dalla Commissione Europea all'interno dell'agenda digitale, quindi nella strategia Europa 2020, che sostanzialmente valuta le prestazioni digitali e l'evoluzione di ciascun Stato membro dell'Unione Europea. È costituito da un valore che va da 0 a 1 ed è sostanzialmente una media pesata del valore DESI di 5 dimensioni, che sono qui riportate nella slide. La prima è la connettività che sostanzialmente valuta quella che è l'implementazione delle infrastrutture a banda larga e la loro qualità. Il capitale umano, anche di questo abbiamo parlato stamattina, quindi le competenze del cittadino nello sfruttare le possibilità che la società digitale gli offre. Quanto il cittadino utilizza contenuti, comunicazioni, effetto transazioni online. La dimensione 4 invece è l'integrazione delle tecnologie digitali, quindi la digitalizzazione delle imprese e il commercio elettronico. E poi abbiamo la quinta dimensione e sostanzialmente è quella che interessa a noi, cioè i servizi pubblici digitali. Quindi valuta l'indice DESI tutto ciò che è relativo ai government e quindi amministrazione pubblica online. Ci va bene, l'indice DESI in Italia cresce. Al 5 marzo sono stati pubblicati nuovi valori e come vedete da questo slide, dal 2014 l'indice DESI italiano è in aumento, però sempre al di sotto della media europea. E infatti l'Italia si posiziona al 25esimo posto tra 28 stati dell'Unione europea, prima di Grecia, Bulgaria e Romania, mentre stati come Danimarca, Finlandia e Svezia sono tra gli stati leader. Questo è un grafico che riporta invece l'indice DESI di ciascuna dimensione del DESI. La dimensione su integrazione della tecnologia digitale è quella che più si avvicina alla media europea, seguita dalla dimensione dei servizi pubblici digitali. Infatti per quanto riguarda i servizi pubblici digitali, l'Italia è al 21esimo posto. Questa dimensione in realtà è quella che cresce in maniera più frammentare e questo vale per tutti gli stati europei. Infatti come vedete dal grafico, nel 2014 eravamo in linea con la media europea, poi siamo scesi un po' nel 2015, per risalire nel 2016 e per allontanarci in maniera importante invece dalla media europea relativa ai servizi pubblici digitali nel 2017. Come si spiega la Commissione europea questi dati? Sostanzialmente dal fatto che i servizi pubblici non sono completamente digitalizzati in Italia, che c'è una mancanza di capacità digitale del cittadino che va ad impattare sulla dimensione 2, quindi del capitale umano del DESI e poi perché i siti web sono poco usabili, quindi non lo diciamo soltanto noi, lo dice anche la Commissione europea per vari motivi. Allora ci siamo chiesti come possiamo migliorare la situazione, la qualità e l'usabilità dei siti web. Il gruppo GLU da anni sta lavorando per cercare di migliorare questa soluzione. Il primo punto della slide dice sviluppo di siti usabili, quindi ci si deve mettere nelle condizioni già di progettare, sviluppare siti usabili attraverso delle metodologie di progettazione note che permettono la realizzazione di sistemi software usabili. Anche questo termine stamattina l'avete sentito, human centered design, quindi la progettazione centrata sull'utente, centrata sul cittadino, che porta allo sviluppo di siti web che siano usabili. E lì dove invece i siti usabili ci sono? Attraverso valutazione di usabilità. Il protocollo GLU-M e GLU 2.1 supporta i valutatori di usabilità durante tutto il processo di valutazione. Seguendo sempre la filosofia del GLU, siccome noi vogliamo dare sempre strumenti che supportino e che diano la possibilità a coloro i quali non sono esperti di usabilità di eseguire test di usabilità affidabile, abbiamo realizzato un software. È nato il progetto Più Più e abbiamo realizzato questo software perché colui il quale esegue test di usabilità con il supporto di un software dedicato ovviamente può ottimizzare i tempi di progettazione, di esecuzione e di analisi dei dati raccolti durante gli studi di usabilità. In letteratura ce ne sono tanti. In questa strada riporta una prima, una classificazione di 14 tool di usabilità fatta da Tomlin nel 2014 che categorizza i tool di usabilità lungo due dimensioni. Lungo l'asse delle ordinate vediamo la profondità della tecnologia che sostanzialmente valuta le funzionalità che il tool offre. Questo valore è alto più i tool sono complessi e quindi complessi nel senso di offrono tante funzionalità. Sull'asse delle scisse invece abbiamo l'impatto dei risultati che il tool offre, cioè quanto sono significativi i risultati che il tool propone una volta che ha elaborato in maniera automatica o semi-automatica i dati raccolti. Quindi ce ne sono tanti di varia natura, chi offre più funzionalità, chi ne offre altre. Alcuni sono free, altri sono costosi. Nella stragrande maggioranza dei casi i tool più performanti, cioè quelli professionali, costano tanto. Cosa abbiamo fatto nel progetto PA++? Stiamo realizzando una piattaforma web che sia competitiva sul mercato, quindi che possa competere in maniera degna con gli altri tool disponibili e anche commerciali. La piattaforma web UT Assistant supporta i valutatori in tutte le fasi di uno studio di valutazione, quindi dalla fase di preparazione, esecuzione e quindi raccolta dei dati, analisi dei dati. Test di usabilità, valutazione di usabilità basata sul protocollo EGLU 2.1 ed EGLU-M. Ho già detto che è una piattaforma web, quindi significa che è realizzata utilizzando delle tecnologie web di ultima generazione e questo vuol dire che è responsive, quindi sostanzialmente può essere utilizzata su dispositivi mobile senza aver nessun problema di renderizzazione. Il mio collega adesso Giuseppe DeSolda vi illustra, vi fa una piccola demo della piattaforma. Ok, prima di fare la demo giusto una breve introduzione per dire appunto che da questa mattina che stiamo parlando di usabilità abbiamo analizzato appunto il concetto di usabilità da diverse angolazioni e ciò che è emerso fortemente è che a supporto dell'usabilità abbiamo bisogno di metodologie, di metodi e di strumenti che in qualche modo aiuti il valutatore, il progettista nella usabilità. Ad esempio il professor Di Nocera ci ha fatto vedere un metodo per valutare il carico cognitivo utilizzando tecniche di eye tracking, abbiamo visto anche il professor Paternò ha fatto vedere delle visualizzazioni per vedere, per rilevare in maniera automatica i problemi di usabilità e visualizzarli anche su una visualizzazione a timeline, come anche dei pattern di valutazioni mostrate dalla professoressa Costabile per aiutare anche i valutatori novizi nel rilevare durante valutazioni fatte da esperti comunque da novizi a monte eventuali problemi di usabilità. Abbiamo visto anche Domenico Polimeno ci ha fatto vedere una buona metodologia per progettare a monte quello che è il workflow, il processo sottostante poi a un'azienda, una pubblica amministrazione. In questo quadro abbiamo visto anche che appunto il progetto Pia++ ha proposto il protocollo EGLU come metodologia per eseguire un test con gli utenti, il problema è che molto spesso i test con gli utenti per quanto possano essere alleggeriti anche da protocolli come l'EGLU sono costosi, sono pesanti perché comunque implicano una fase di progettazione dello studio che forse è la più leggera, ma c'è sicuramente tutta una fase di esecuzione dello studio con i partecipanti e soprattutto la fase più pesante poi la parte di analisi dei dati. E quello che vogliamo fare con il tool di UT Assistant è cercare di rendere automatico l'intero processo, queste sono le tre macro attività in cui UT Assistant si colloca e che cerca appunto di automatizzare alleggerendo nell'intero processo. E ora faremo appunto una breve demo con degli screenshot di quello che è lo strumento che abbiamo realizzato a Bari. Ok, lo strumento si presenta con una pagina di login da cui possono accedere tanto i valutatori quanto i partecipanti, infatti gli attori in questo tool sono due, ad esempio gli attori web della pubblica amministrazione che vogliono condurre una situazione di usabilità e partecipanti che verranno recultati. Entrambi potranno accedere da una pagina di login, in questo caso stiamo ipotizzando la progettazione di uno studio. Questa è la schermata base che vi darà al primo accesso ad esempio il redattore web e da questa schermata può iniziare la creazione di uno studio di usabilità. La creazione di un studio di usabilità si porta a termine fondamentalmente in tre macro step, qui non si è tantissimo, però viene definito innanzitutto il set di informazioni di base dello studio, ovvero il titolo, l'URL del sito da valutare, una descrizione dello studio, che vedrà poi l'utente prima di iniziare lo studio stesso. Poi si potranno spuntare qui, in questa zona qui, una serie di caselle che rappresentano i dati che il valutatore vuole catturare. Ad esempio possiamo catturare l'audio nel caso di protocollo Thinking Loud, piuttosto che il volto dell'utente dalla webcam del computer, piuttosto che le attività del mouse, quindi il log del mouse. E in ultimo qui il valutatore può anche spuntare uno o più questionari da somministrare a valle dello studio. Abbiamo ad esempio quelli previsti dalle clu come il SUS, l'NPS, anche l'UMUX Lite, ne abbiamo integrati anche altri come il NASA TLX per valutare il carico cognitivo a valle di ogni task o l'attractive. Ok, una volta definite le informazioni di base si definiscono i task dello studio, quindi ogni task verrà definito in termini di obiettivo, durata massima del task, l'URL che può differire da quella dell'URL di base, perché magari il task potrebbe partire da un'URL più specifica all'interno del sito e poi la descrizione delle istruzioni che l'utente deve leggere prima di iniziare il task. Ok, ovviamente l'utente potrà, scusate, il valutatore inserire tutti questi dati, potrà definire n task e alla fine del processo di definizione dello studio potrà definire quelli che sono i partecipanti che verranno reclutati. Potrà selezionare da una lista di partecipanti già registrati piuttosto che inserirne di nuovo. Ok, la valla adesso passa in mano ai partecipanti, una volta che il partecipante riceverà l'invito appunto, un po' come il meccanismo di Google Drive quando vengono condivisi i documenti, si vedrà una lista di studi assegnati, da questa lista può avviare cliccando sul relativo pulsante uno studio e l'idea è che in questa fase la piattaforma si sostituisce a quella o quantomeno l'idea di farlo sostituire all'esperto che solitamente in un studio usabilità è accanto al partecipante. Quindi la piattaforma lo guida, innanzitutto gli dice che ci sono dei dati sensibili che verranno catturati, quindi può declinare eventualmente il partecipante. Successivamente ci saranno delle breve descrizioni su quelle che sono le tre funzionalità praticamente il lato partecipante della piattaforma. In ultimo appunto ci sarà la descrizione dello studio che è quella che è stata inserita dal valutatore durante il processo di creazione dello studio stesso. Una volta iniziato, anzi scusate questa è la, una volta appunto somministrata la descrizione dello studio si comincia la somministrazione dei task in sequenza. Quindi l'idea è che l'obiettivo della descrizione dei task è sempre ben visibile nella parte alta della piattaforma come anche il pulsante per passare al task successivo, come anche il pulsante eventualmente per uscire. Nella parte principale invece, quindi la piattaforma è poco invasiva lato partecipante, tutto il resto della piattaforma di fatto è il sito da valutare, ad esempio il sito di Uniba. Il partecipante porterà a termine tutti i task così come i somministratili, alla fine compilerà il o i questionari che sono stati selezionati dal valutatore. Ad esempio in questo caso simuliamo la somministrazione del SUS, potrebbe esserci anche la somministrazione dell'NPS, se ci fosse stato ad esempio il NASA TLX sarebbero state somministrate a vale di ogni task i sei item previsti dal NASA TLX. Ok, finito il questionario, finitosi anche la fase di questionario, il partecipante ha finito, tutti i partecipanti hanno finito, quindi c'è stata una raccolta dati automatica del sistema e la cosa forte forse è proprio la terza fase, cioè la fase di analisi, perché questa è una delle fasi più pesanti, quella di aggregazione dei dati, di analisi dei dati, creazione dei grafici, reportistica, che viene completamente automatizzata. Ad esempio il punto di partenza secondo me più importante è quello dell'efficacia dei task e del sito valutato. Qui ad esempio abbiamo i task somministrati sulle colonne, possiamo vedere ad esempio che il task più problematico è il primo che ha un tasso di successo del 33%, magari il terzo è quello meno problematico e quindi magari partendo da questo dato possiamo andare in profondità facendo altre analisi, per esempio un altro tipo di valutazione che possiamo fare è quella basata sui filmati, ad esempio se è stato usato il protocollo del thinking out, quindi possiamo andare a rivedere ad esempio partendo da questa tabella, quali sono stati gli utenti più in difficoltà su questo task e quindi possiamo andare a vedere i filmati collegati a quegli utenti per capire magari dove hanno avuto problemi. Un altro dato importante è quello per esempio sull'efficienza nell'esecuzione vado avanti qui per la facilità, sull'efficienza nell'esecuzione dei task, qui vengono riassunti tre task somministrati, per ogni task abbiamo il tempo medio e i click medi, stiamo ampliando anche le tipologie di statistica, al momento abbiamo queste due, che comunque ci hanno già una buona indicazione su quella che è la performance del sito rispetto a quei task. Ok, un'altra valutazione molto utile dal mio punto di vista è quella delle mappe di calore, cioè se per esempio noi vediamo che un task magari è stato effettuato con successo nel 100% dei casi ma poi è poco efficiente, allora ci può essere un problema da qualche parte, cioè magari gli utenti riescono a portarlo a termine ma in maniera molto lenta e con molti click. Quindi le mappe di calore possono aiutarci a capire magari dove gli utenti si sono soffermati di più, magari ci sono elementi della pagina che stanno distraendo l'attenzione dell'utente, stanno forbiando l'attenzione dell'utente e quindi la mappa di calore task per task ci aiuta a capire dove gli utenti si sono mossi maggiormente. In ultimo forse una delle analisi più time consuming dal punto di vista del valutatore è quella dei questionari, quindi aggregare solitamente dei questionari, produrre statistiche, produrre grafici è molto onerosa, anche questa è automatizzata, qui ne vediamo solo due esempi, ovvero quella del SUS dove abbiamo in questa schermata un esempio di punteggio SUS generico del sito, si può andare anche in profondità su diverse visualizzazioni come il SUS di ogni singolo utente, come anche il SUS scomposto in usabilità, prendibilità e visualizzato su boxplot, oppure il SUS plottato sulle scale che appunto la letteratura ci insegna a essere quelle di riferimento per questo questionario. di nuovo questa invece è la visualizzazione, le statistiche relative all'NPS, ma sulla base appunto, cioè analogamente abbiamo stesse statistiche simili, visualizzazioni simili per tutti gli altri questionari. Ok, per concludere cosa prevediamo da adesso in avanti? Prevediamo sicuramente di estendere il sistema con nuove funzionalità, ovvero stiamo implementando, stiamo ampliando il ventaglio delle mappe di calore, quella che abbiamo visto prima era una mappa di calore che aggregava sia i click che i movimenti del mouse, però a volte può essere utile andare nello specifico, vedere se c'è solo i click, oppure vedere anche lo scroll del mouse. Stiamo implementando anche delle visualizzazioni a supporto dell'identificazione di errori di usabilità, un po' come quelle presentate al professor Paterno stamattina, ma diciamo leggermente diverse, però l'obiettivo è lo stesso. Stiamo prevedendo anche la possibilità di implementare la cattura del desktop diversamente da quanto ho fatto ora, perché ora catturiamo solo la webcam dell'utente e in ultimo, secondo quello che è previsto dal protocollo EGLU, prevediamo anche di esportare una reportistica che possa essere anche diffusa. Ultimi due aspetti sono la validazione sul campo che è stata anticipata prima dall'ingegnere Caprino, ovvero prevediamo nei prossimi mesi di sperimentare con le pubbliche amministrazioni il prodotto Ulti Assistant e parallelamente stiamo provvedendo a rendere compliant la piattaforma Ulti Assistant con lo standard 25.010, che è uno standard che riguarda non tanto usabilità come abbiamo visto questa mattina, ma più le qualità interne del software, però è un requisito fondamentale per la diffusione della piattaforma all'interno della pubblica amministrazione. Io volevo aggiungere, prima di passare la parola al professore Federici, che il percorso che ci siamo dati dopo aver sperimentato e definito questa piattaforma è quella di avviare un percorso di formazione. Chiaramente è una piattaforma che deve essere interpretata, deve essere compresa e per essere poi definita nel passaggio successivo. Quindi noi sperimenteremo e attiveremo anche dei percorsi formativi presso l'Istituto per dare un maggiore approfondimento di come utilizzare questa piattaforma. Quindi questo è il percorso successivo che noi ci siamo in qualche modo messi in agenda. Prego, questo è il percorso. Sì. Fino adesso quello che abbiamo portato avanti con questo gruppo di ricerca del Dipartimento dell'Università di Bari e del Dipartimento dell'Università di Perugia insieme all'ISCOM è stato appunto lo sviluppare e fare una prima valutazione, una prima analisi del funzionamento di questo piattaforma di Google Assistant. Ora vogliamo arrivare a offrire un prodotto finale che vorremmo chiamare i Glue Box che sia disponibile poi per chiunque delle pubbliche amministrazioni desideri avere uno strumento per la valutazione dell'usabilità dei propri siti. Per cui quello che noi stiamo facendo, qual è la differenza tra l'attuale Uta Assistant e i Glue Box? Beh, i Glue Box non è semplicemente un software da applicare su un proprio computer o di collegarsi ad un server che abbia questo software, ma anche un pacchetto di informazioni, un corso di formazione, un manuale che dia la possibilità a appunto non esperti di poter gestire questo software, di poter risolvere i problemi qualora ce ne sia. Per cui in questo percorso che ha caratterizzato la prima fase della nostra sperimentazione che abbiamo chiamato PiA++ verso i Glue Box, noi stiamo, come abbiamo sentito dai colleghi dell'Università di Bari, apportando un miglioramento della piattaforma, perché per esempio, oltre l'implementazione di nuove funzionalità e di nuove unità di misura, anche che sia certificata con l'ISO 2510, e inoltre vogliamo fare una valutazione dell'interfaccia utente e poi insieme una valutazione dell'interfaccia utente anche con la collaborazione delle pubbliche amministrazioni che intendono condividere da questo momento in poi accettano, sono interessate a partecipare a questa sperimentazione e vogliono collaborare nel valutare la funzionalità di questa piattaforma utilizzandola nella valutazione dell'usabilità dei propri siti. Tenete conto che, penso che vi sia stato chiaro, che questo software, Boot Assistant, ha due aspetti e quindi va valutato sotto due aspetti, cioè c'è quello che vedrà l'utente che voi invitate a valutare il vostro sito e l'interfaccia del valutatore vostra, il redattore web, della pubblica amministrazione che deve preparare, usare Boot Assistant per preparare la prova di valutazione dell'usabilità con gli utenti. Quindi abbiamo due interfaccia, come si prepara, come si preparano i task, come devo preparare perché rispondo a quel questionario, come personalizzo un questionario, quindi c'è un'interfaccia che è un'interfaccia valutatore e un'interfaccia che sarà quella che valuteremo con gli utenti, che sarà quella che utilizzerà l'utente. Vediamo la valutazione di Boot Assistant da parte di quello che faremo noi come Università di Perugia. Faremo due tipi di valutazione dell'interfaccia utente, una online, cioè proporremo a almeno un centinaio di partecipanti, sia di lingua italiana che di lingua inglese, di valutare l'usabilità del sito del MISE, sia il sito in lingua italiana che in lingua inglese. Come recluteremo questo, che è tutto un procedimento online, attraverso questa piattaforma di Prolific che ci permette di poter reclutare utenti di altra nazionalità, non solo italiana, che sono registrati presso questo sito. Questo sito ci permette di indicare quali caratteristiche di utenza abbiamo bisogno, età, nazionalità, lingua e queste persone che aderiranno a questo invito riceveranno un link che attraverso quest'altra piattaforma di salvagismo gli permetterà di poter valutare attraverso l'utilizzo in background di Udassistant il sito del MISE. Questo però non ci basta, nel senso che abbiamo bisogno anche di fare un protocollo sperimentale in loco presso l'ISCOM nel laboratorio che abbiamo visto che è stato presentato. Perché? Perché abbiamo bisogno di vedere la funzionalità della piattaforma Udassistant anche con utenti disabili e quindi di poter utilizzare anche degli ausili come per esempio la navigazione attraverso una sintesi vocale per i povedenti o ciechi oppure di implementare, di vedere qual è il funzionamento, l'usabilità, i livelli di usabilità anche correlandoli con altri tipi di misure che sono delle misure biocomportamentali che saranno quelle che tra poco, appena avrò terminato, vi presenteranno due miei colleghi, Maria Laura e Marco Bracalenti. Cioè sono non solo l'analisi della usabilità utilizzando protocolli verbali come il PCTA, cioè il Partial Concurrent Thinking Allowed, ma anche attraverso una rilevazione di risposte automatiche, non consapevoli. Cioè per esempio la rilevazione delle espressioni facciali che mi permette di rilevare quali sono le risposte emotive della persona senza che la persona ne sia direttamente consapevole o me lo dica espressamente. Oppure attraverso l'utilizzo di un caschetto BCI quello di rilevare quali aree cerebrali sono maggiormente attive durante l'interazione. In base ad alcune analisi statistiche delle varie aree che si attivano durante l'interazione io posso andare ad indagare se c'è stata una maggiore o minore piacevolezza o un maggiore o minore carico cognitivo. Questo è quello che faremo noi come equip universitaria, ma c'è una parte che è riservata appunto a ciascuno di voi, a ciascuno dei redattori delle pubbliche amministrazioni che intende collaborare con noi in questa valutazione e quindi portare avanti una sperimentazione. Avrà a disposizione un protocollo sperimentale, quindi un manualetto che gli spiegherà che cosa deve fare per eseguire questa sperimentazione, un link di accesso ad Outassistant, cioè il software sarà caricato su un server che viene collocato presso l'ISCOM, questo link gli permette l'accesso a Outassistant e attraverso questo link potrà quindi adoperare la piattaforma. E infine, prima dell'avvio della sperimentazione, le pubbliche amministrazioni che avranno aderito a partecipare a questa sperimentazione riceveranno un corso che sarà diciamo basato sulla spiegazione di questo protocollo sperimentale, di queste breve linee guida che abbiamo redatto anche in cartaceo. Queste linee guida sono queste che sono tratte poi dai glu fondamentalmente, cioè sono questi cinque capitoli che riguardano il reclutamento, la preparazione dei materiali, la disposizione del setting, quindi reclutamento, quanti partecipanti devo reclutare per partecipare a questa sperimentazione con voi, che tipo di tipologie di utenti devo includere, quali sono i prerequisiti per una corretta selezione dei partecipanti, come avviene il contatto di avvio con i partecipanti, quindi tutto questo manuale, queste linee guida, aiutano ad orientare, a standardizzare la procedura sperimentale che ciascuna pubblica amministrazione che intende partecipare a questa sperimentazione può eseguire, in modo tale da avere dei dati il più possibile simili, comparabili tra di loro. Adesso, dunque, per concludere, prima di passare la parola ai miei colleghi che vi faranno vedere invece queste tecnologie che servono per una rilevazione dei processi automatici non controllati delle emozioni e dell'interazione e quello che vi chiediamo è che chiunque è interessato a partecipare si metta in contatto con noi oppure direttamente con il laboratorio dell'ISCOM insomma perché ancora è possibile dare la propria adesione per la partecipazione. Se anche già avete qualche domanda su questo io posso rispondervi o possiamo rispondervi se avete qualche domanda legata alla partecipazione o ai vincoli o ai dubbi sulla partecipazione e volentieri vi rispondiamo immediatamente. Comunque è prevista poi se c'è un po' di spazio la fase successiva. Mentre adesso invece do la parola alla dottoressa Maria Laura Mele che avete già ascoltato che ha sostituito Fabio Meloni e al dottor Marco Bracalenti entrambi nel progetto PA++ che si è concluso all'inizio di quest'anno in primavera vi faranno vedere delle tecniche che non sono riservate alla valutazione da parte delle pubbliche amministrazioni ma per farvi un po' capire come lavoriamo all'interno del laboratorio ISCOM ma per una valutazione dei processi automatici non controllati. Uno dei problemi dei questionari espliciti è proprio il problema della desiderabilità sociale cioè che le persone tendono a risponderci cercando di fare una bella figura quindi in base a come lo sperimentatore si aspetta che vada la sperimentazione per cui, e questo ci è capitato anche nelle registrazioni che abbiamo degli utenti che hanno partecipato l'utente quando trova una difficoltà pensa che è lui ad essere sott'esame pensa che è lui ad essere inadeguato alla navigazione e quindi tende a diminuire o a sminuire la difficoltà perché ha paura che il problema non sia il sito che non è usabile quanto piuttosto la sua capacità di sapere interagire con quel sito, con quell'interfaccia. Bene, questi meccanismi, questi strumenti ci permettono di risolvere o di superare un problema della desiderabilità sociale perché vanno a prendere delle risposte biocomportamentali che non sono controllate consciamente che non sono controllate dalla persona e quindi che precedono la consapevolezza della persona e quindi come dire ci danno un altro, non necessariamente la più autentica non è sempre detto che sia la più autentica ma certamente integrano le informazioni che possiamo ottenere attraverso i questionari Prego Grazie 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 a tutti. Ok, allora rieccoci. Allora, noi adesso vogliamo farvi una breve dimostrazione di quelle che sono le tecnologie e i metodi che utilizzeremo, che abbiamo già utilizzato e che riutilizzeremo per indagare quello che sarà l'evoluzione di UT Assistant. Questo perché, come ho già detto prima, è importante che anche le metodologie che utilizziamo siano usabili, le metodologie di valutazione dell'usabilità siano usabili. Il modo migliore e più accurato, che evita poi a voi di dover fare indagini troppo accurate e quindi biocomportamentali, è quello di passare per misure non solo esplicite, che seppur buone restano sempre esplicite, ma misure, come ha detto il professor Federici prima, che vadano a indagare tutto quello che è al di sotto della consapevolezza. Quindi variabilità emotiva, che può essere un livello di attivazione maggiore, stress, tutte quelle situazioni di cui non siamo generalmente consapevoli. Chi più, chi meno. Comunque è sempre un po' al di sotto della soglia di consapevolezza. Perché ci serve questo? Perché facciamo questo? Perché andiamo a utilizzare tecnologie così accurate quando già abbiamo delle tecnologie standard? Questo in aggiunta alle metodologie tradizionali ci serve, come già detto, per accogliere informazioni implicite, non consapevoli. E inoltre è perché ci evitano maggiormente tutte quelle possibilità che la presenza dello sperimentatore o un contesto non, noi diciamo, ecologico, quindi non naturale di interazione, può avere sulla prova stessa. E' ovvio che la presenza dello sperimentatore influenza il campo. E chiaramente con un caschetto come quello che vedremo ora o sapendo che c'è una telecamera che riprende le nostre emozioni, non saremo totalmente spontanei. Però andiamo un po' a ridurre quello che può avvenire in un test che è esplicitamente di gradevolezza. Per cui se io voglio compiacere il mio sperimentatore tenderò magari a sovrastimare o anche a sottostimare in base alla mia personalità. Allora, ora mostriamo non un vero test, non c'è lo spazio e non è neanche il contesto adeguato, ma una dimostrazione sintetica di quello che noi facciamo. Prima di tutto questo c'è una preparazione iniziale in un laboratorio, cioè noi seguiamo dei principi che sono quelli del protocollo EGLU 1.0 che voi potrete tranquillamente scaricare dal sito della funzione pubblica seguendo la voce EGLU. E qui sono definiti i materiali che dobbiamo utilizzare in base al tipo di valutazione. Il setting, abbiamo visto prima dalla spiegazione di come è strutturato il laboratorio dell'ISCOM, quello è un setting ideale in cui effettuare questo tipo di valutazioni. Deve esserci una luce non troppo intensa, quindi che non vada a influire sulla vista. Deve essere un ambiente abbastanza silenzioso. Deve essere ridotta il più possibile la presenza dello sperimentatore, quindi la presenza di uno specchio unidirezionale riduce l'influenza se sono più sperimentatori nella sala. Deve esserci una sedia comoda, deve essere un ambiente il più possibile simile a quello che è l'ambiente di navigazione naturale. Nel protocollo abbiamo anche la modalità di creazione di scenari. Uno scenario è una situazione tipica. Per esempio, se stiamo andando a valutare il sito di un'università, io mi voglio iscrivere a un esame, uno scenario è la situazione tipica. Il tuo amico non ha accesso all'internet e ti chiede cortesemente di scrivere attraverso la sua matricola, di iscriversi a un sito web. Tu a questo punto accedi dalla rete dell'università per fare questo. Questo è un esempio di scenario, poi chiaramente ognuno lo riapplica in base, ci sono delle tecniche, delle metodologie da seguire. Infine gli apparati necessari, adesso vedremo quali sono necessari per noi, e poi le modalità di reclusamento. Quindi dal momento in cui chiediamo agli utenti di partecipare alla nostra prova, da quel momento noi possiamo influire sulla prova stessa. Dobbiamo stare molto attenti al modo in cui chiediamo alla persona di partecipare ai nostri test. E anche per questo il protocollo EGLU ci dà delle dritte in qualche modo. Quindi il nostro setting l'abbiamo già definito, è come quello dell'ISCOM. L'ambiente è sereno per rendere il più possibile la prova ecologica. Gli strumenti per la valutazione di UTA assistant per noi sono un laptop, come questo, un campanello che non abbiamo, vabbè, è il campanello che vi scrive la prima professore. La metodologia che utilizzeremo, che utilizziamo, è quella del partial concurrent thinking aloud, che abbiamo visto prima. E poi utilizzeremo uno strumento che permette la rilevazione dell'elettroencefalografia. Un software che attraverso webcam permetta il riconoscimento delle microespressioni facciali, quindi dei micro movimenti del volto, ai quali sono connessi, come vedremo, delle specifiche emozioni. E' un software che coordina tutto questo, perché mettere insieme i dati ottenuti durante l'interazione relative alle emozioni e i dati ottenuti dal caschetto si parla di millisecondi, per cui ci vuole un software che necessariamente sincronizzi queste due cose. Quindi, prima di continuare, ci serve un volontario. Però non un volontario qualsiasi, un volontario che abbia pochi capelli. Quindi, chi si sente? Questo perché, appunto, utilizzeremo la soluzione salina, quindi niente di invasivo, non ci sono elettrodi. Quindi, secondo me... Grazie. Il tuo nome? Sandro, grazie per restarti a questo. Allora, Marco ci spiegherà il funzionamento sia del software di sincronizzazione che abbiamo appena detto, che del software delle emozioni facciali. Salve a tutti. Allora, come ha già anticipato la dottoressa Mele prima di me, l'interfaccia che voi state vedendo è l'interfaccia di iMotion, cioè il software di integrazione, che noi utilizziamo per riconoscere le emozioni che una persona sta provando durante lo svolgimento di un compito, come ad esempio un test di usabilità. La caratteristica principale di questo software, come è stato abbondantemente detto prima di me, è quella di riconoscere le emozioni in maniera del tutto implicita, ovvero senza che la persona in questione ne sia consapevole. Per fare questo iMotion è in grado di analizzare, organizzare insieme, integrare tra di loro una vasta gamma di dati biocomportamentali. Che cosa sono questi dati biocomportamentali? Sono sostanzialmente delle informazioni che possono essere di carattere comportamentale, ovvero i tempi di reazione, cioè il tempo impiegato per rispondere ad uno stimolo, oppure di carattere neurofisiologico, ad esempio l'aumento o la diminuzione del battito cardiaco, la cui variazione noi sappiamo essere associata alla variazione degli stati emotivi. Cioè noi sappiamo che questi dati vogliono dire qualcosa in termini emotivi. Come fa a fare questo questo software? Perché è in grado di gestire contemporaneamente le registrazioni effettuate da vari hardware o device che noi sappiamo essere specificatamente adatti per registrare quei dati biocomportamentali di cui vi parlavo prima. Ora, con questo software possono essere gestiti tantissimi dati biocomportamentali, ho parlato del battito cardiaco, i tempi di risposta, la conduttanza cutanea. Diciamo che noi nei nostri test di usabilità e quindi in questa breve demo dimostrazione, sostanzialmente utilizziamo due principali device, uno affettiva che è uno che è, senza fare i nomi, che è specifico per la registrazione delle espressioni facciali e l'altro che è una brain computer interface che è specifico invece per la registrazione dell'attività elettrica del cervello. Allora, questo è il primo. Con questo software, che è un software integrato all'interno appunto di Emotion, noi abbiamo la possibilità di registrare tutte le espressioni facciali che il volto di fronte alla webcam compie, appunto, falsificarle non si può, durante lo svolgimento di un compito come di un test di usabilità, ad esempio. Come fa questo programma? Questo programma fondamentalmente sfrutta appunto la webcam integrata del PC per registrare i movimenti, i micro-movimenti di tutte le singole unità muscolari del volto, ricostruendo in tempo reale, quindi online, i pattern più generali delle espressioni facciali associate alle sei principali emozioni di base che sono gioia, rabbia, paura, tristezza, sorpresa e disgusto, di cui voi infatti vedete i tracciati che si stanno modificando online mentre il soggetto sta appunto cambiando espressione di volta in volta, appunto come vedete. Fondamentalmente a che cosa serve questo in un test di usabilità? In un test di usabilità questo ci permette di ottenere un'informazione molto importante, cioè la valenza o qualità emotiva, detto in sostanza il tipo di emozione che il soggetto sta provando in ogni singolo istante della prova rispetto appunto alla prova che sta svolgendo. Allora, in questo momento vediamo, ok, adesso, allora, engagement aumenta, engagement sarebbe un approccio positivo, quindi lui è molto interessato a quello che io sto dicendo, è molto sorpreso in questo momento. Facciamo delle domande imbarazzanti, in questo modo c'è qualche picco, qualche picco, ecco. ecco, tristezza che aumenta in maniera, quindi evitiamo magari di entrare troppo nello specifico. Ok, adesso settiamo. Quindi adesso vi faremo vedere come funziona una BCI. Questo, in questo momento, allora è un caschetto, quello che utilizziamo noi, ha 16 elettrodi, e ciascuno di questi elettrodi per, diciamo, amplificare il segnale elettrico che sta al di sotto della carotta cranica deve essere lubrificato con della soluzione salina. Però non è... È assicurato lei? Molta tristezza e sorpresa in questo momento. C'è anche un po' di disgusto, vedo. Quella è la soluzione salina. Quindi, questa è una pratica che richiede abbastanza... richiede del tempo, generalmente. Per le persone abbiamo scelto lui perché appunto avendo pochi capelli è più facile, diciamo... Si dice diversamente calvo. Ok. Pardon. Abbiamo fortuna. Ecco, quei pallini verdi corrispondono, ciascuno di questi, a un elettrodo. Se è verde significa che è funzionante ed è perfettamente posizionato. Marco, vuoi continuare tu a spiegarci? Ok, dunque. Questa roba stranissima, tipo aliena, in realtà è una roba molto innocua ed è appunto, come dicevo prima, una Brain Computer Interface, o BCI. Assieme appunto alla registrazione delle espressioni facciali, noi utilizziamo questo particolare device che non è altro che un caschetto con 16 elettrodi connesso al computer tramite una chiavetta wireless che una volta indossato dalla persona ci permette di registrare momento per momento le variazioni, quindi l'oscillazione dell'attività elettrica cerebrale durante lo svolgimento di un compito come di un test di usabilità. Fondamentalmente è quello che fa un elettroencefalogramma. Ora, c'è una differenza tra il tracciato che voi state vedendo in questo momento è quello che abbiamo visto prima relativo alle espressioni facciali. In questo caso mancano dei marker relativi alla valenza emotiva, cioè prima potevamo vedere infatti non so cosa sia successo. Qui possiamo vedere dei marker, cioè dei tracciati specifici per ogni espressione, per ogni emozione, quindi uno per la gioia, uno per la paura, uno per la tristezza, cosa che è molto comoda. In questo caso invece noi abbiamo un tracciato molto più complicato da leggere perché quello che vediamo è la variazione dell'attività elettrica registrata da ogni singolo elettrolo, quindi diciamo che da questo punto di vista sono dati maggiormente grezzi e meno elaborati. Dunque, che cosa ci facciamo noi con tutta sta roba alla fine? In un contesto di questo tipo possono essere condotte processing, cioè al termine poi della rilevazione dei dati, delle analisi statistiche molto complicate, molto lunghe e molto laboriose dalle quali noi otteniamo degli indici, ognuno dei quali ha un determinato valore. In un test di usabilità l'indice che è diciamo maggiormente informativo per noi è quello della frontale asimmetri o asimmetria frontale, ovvero della differenza media del potenziale elettrico che viene registrato da questi due elettrodi F3 ed F4, perché questo indice, questa differenza, rappresenta il tipo di coinvolgimento che la persona ha avuto con il compito che ha svolto. Più questa differenza è positiva, quindi più è verso l'alto, più il coinvolgimento viene detto engage, cioè un coinvolgimento positivo, significa che sostanzialmente le emozioni provate durante appunto lo svolgimento del compito erano molto intense. Al contrario, se questa differenza dovesse essere down, quindi molto negativa, rappresenta un coinvolgimento di tipo avoid, cioè un coinvolgimento negativo, un evitamento diciamo del compito, cosa che significherebbe che le emozioni provate sarebbero molto basse. In sostanza, perché utilizzare anche questa robaccia qua assieme alla registrazione delle espressioni facciali? Perché se da una parte le espressioni facciali ci forniscono un dato sulla qualità dell'emozione provata, cioè ci dicono che cosa sta provando il soggetto, paura, rabbia, tristezza, sorpresa, l'analisi dell'attività elettroencefalografica ci dà un'informazione che è esattamente complementare, cioè l'intensità, la quantità emotiva, cioè quanto intensamente è stata provata quell'emozione durante quel momento rispetto ad un altro. A questo punto, dopo aver fatto un setting, aver, diciamo, aggiustato il setting nel migliore dei modi, in questo caso è andato proprio benissimo alla prima, lo chiamiamo come primo soggetto, si darebbe al partecipante, si leggerebbero delle istruzioni, si spiegherebbe quindi in cosa consiste la prova, si darebbe uno specifico task con una durata variabile, di solito per ogni compito si dà un massimo di 4-5 minuti, si seguirebbe il tempo, ma si farebbe tutta una procedura che poi potete trovare la stessa identica e noi seguiamo la stessa identica del protocollo EGLU 1.0 e alla fine della prova, insomma, ha ringraziato il soggetto, si farebbe direttamente l'esportazione dei dati. Adesso, farvi vedere l'esportazione dei dati è un po' noioso, insomma, non penso che sia interessante, quindi comunque questi software ci permettono di fare esportazioni direttamente o con, per un software di valutazione statistica oppure semplicemente in Excel e da lì poi inizia il lavoro. E questo è quanto. Grazie. Grazie soprattutto a Sandro. Bene, grazie. Allora, adesso possiamo avere, dare l'apertura a qualche domanda perché abbiamo un po' di tempo fino alle 16.30 quindi se c'è qualche domanda da dare, da presentare possiamo rispondere. grazie. grazie. l'uso dei motori di ricerca. I dispositivi tablet, palmari e tari sono dispositivi abituati a rispondere agli utenti a domande fatte in italiano corrente o in altra lingua corrente. Voglio comprare un biglietto del treno. Voglio scaricare un certificato elettorale. Mi voglio sposare. In realtà i siti web della pubblica amministrazione di dieci anni fa con il famoso portale del cittadino rappresentavano un insieme di domande con delle risposte precise. Non si è capito che fine ha fatto quel progetto che oggi non esiste più che era all'avanguardia dieci anni di domanda. Quindi parallelamente a questo protocollo che si sta sviluppando e che grazie a queste tecnologie può approfondirsi sempre meglio perché non creiamo una parte sperimentale della pubblica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cosa vuoi fare? Mi voglio laureare, voglio iscrivermi all'università, voglio sposarmi, voglio fare un certificato. È una provocazione, però secondo me ci potrebbe portare molto avanti. Si parla di Industria 4.0 partendo anche da questo. Grazie. Volevo fare una precisazione. Dobbiamo anche distinguere le pubbliche amministrazioni. Grazie. 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 ottenere per avere un modello giusto. Allora questo è un ottimo spunto, è un argomento che avevamo già in qualche modo stamattina un po' tra le quinte. Grazie. Grazie. ...e un livello proprio di università, uno studio profondissimo sull'usabilità, che è post a quello che è la progettualità sul sito, quindi l'intelligenza dell'usabilità si potrebbe andare a invece riversare sulla progettualità di siti che funzionino. Certo, questo è un percorso da dover affrontare in questi termini proprio per evitare di un po' tra le quinte. Grazie a tutti. ...in cui fai una procedura online e per completarla devi andare a mandare una raccomandata? Ce ne sono n che sono fatte così. Che stiamo facendo? Abbiamo fatto il sito usabile, qualcuno è contento, però non abbiamo risolto il problema, né a chi quella raccomandata la dovrà digitalizzare, perché il CAD ci dice questo. Facciamo fare un passaggio offline quando il governo stesso dice no, c'è una legge che dice che si deve protocollare all'interno, né al cittadino che dovrà andare a mandare questa raccomandata. E questa, quindi facciamo molta attenzione a fare un distinguo molto grosso. L'usabilità è un primo passo. Fare cultura su questi temi diventerà sempre più importante, perché non è che il governo inglese sono stati bravi, il governo inglese l'ha fatto per una spending review. Questa è una cosa che quasi nessuno lo sa. Non è che loro sono bravi perché a un certo punto si sono svegliati e dicono usiamo il design. No, la Corte dei Conti inglesi ha detto l'informatica della pubblica amministrazione costa troppo, smettetela di esternalizzare. hanno messo tutta l'informatica sotto un solo soggetto, facendo incavolare molte aziende che campavano con la pubblica amministrazione, pagandola anche lo scotto politico, perché è pure un esercizio politico, mi permette di dire in questa sede che c'è bisogno anche di una volontà politica per fare una cosa del genere. E solo dopo questa spending review si sono ritrovati a dover assumere, continuano ad assumere ancora oggi solo, oltre che tecnici, anche progettisti, gente preparata in service design, gente preparata in user experience, designer, ricercatori. Quindi siamo su due piani completamente differenti. Cioè un'esigenza, se noi non incominciamo a fare questo passaggio e ci acconteniamo dicendo vabbè abbiamo fatto il sito usabile, vabbè abbiamo fatto il sito accessibile, la legge stanca del 2004, ancora ce ne invidiano come leggi, ma l'applicazione è zero. Quindi siamo molto attenti quando parliamo di modelli usabili per la pubblica amministrazione, quello è l'inizio, noi dovremmo sempre tendere, lo dico col cappello del glu da questo punto di vista, dire ok, stiamo incominciando a vedere che si usa il glu, ci sono nuove tecnologie che potranno andare avanti, ma il passo successivo deve essere una cosa che 10, da questo punto di vista sono molto d'accordo con il professore Di Saer, cioè cerchiamo di vedere in attimino oltre dal punto di vista sistemico e progettuale quello che stiamo andando a fare, perché altrimenti abbiamo il sito usabile ma il servizio che non funziona e si parla sempre di servizio pubblico, non di sito pubblico, fino a quando ho controllato l'ultima volta in giro. Ecco, ragganciatemi su questo discorso, l'usabilità si deve legare al discorso del servizio, questo è un elemento fondamentale, perché nella pubblica amministrazione noi forniamo servizi, cioè diamo servizi al cittadino, per dare servizi al cittadino dobbiamo differenziare i tipi di servizi, siccome noi parliamo nella pubblica amministrazione di procedimenti, quello che è il concetto di partecipazione è consentire di offrire un servizio alle pubbliche amministrazioni rivolte ai cittadini, servizi a 360 gradi, quello che praticamente potrebbe essere da un'istanza e arrivare a una risposta. Il concetto di procedimento partecipato è molto più complesso di fornire una semplice informazione, noi adesso fino ad oggi abbiamo raccolto degli elementi per cui riusciamo a fornire attraverso questi siti delle comunicazioni e delle notizie. Il fatto che si possono evolvere e possono essere garantiti anche dei servizi veri e propri, grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.